L'unica persona da cui ti farai vedere sono io. Sto bene, grazie. Sono Charlie Watson. Ho 18 anni. Oggi, in realtà. Il maggiorino è vendita. È tua, piccola. Buon compleanno. Oh, mio Dio. Che cosa sei? Cioè, non hai idea da dove arriva? Non hai idea. Wow. Facciamo un patto. La gente può essere tremenda con le cose che non capisce. Da ora in poi, l'unica persona da cui ti farai vedere sono io. Sto bene. Sto bene, grazie. Sul nostro pianeta infuria una guerra. Se quel criminale non viene trovato, quella guerra potrebbe sbarcare qui. C'è qualcuno che può aiutarti? Hai una famiglia? Oh, chi? Io? Stanno chiamando un esercito. Ho visto di persona cosa sono in realtà. Bumblebee, c'è un solo modo per porre fine a questa guerra. Devi proteggere la Terra e la sua gente. Abbattetelo! Reagisci! Lo fermeremo in questo modo. Tu hai me. E io non vado via. No! Oddio, sono finita.